Laudato sì, mi signore. Siamo al numero 202 e seguenti della enciclica Laudato sì e nella nostra serie, questo video è il numero 19. Il Papa sottolinea che serve una educazione ecologica e una spiritualità ecologica. L'umanità ha bisogno di cambiare rotta. Manca la coscienza di una origine comune, di una reciproca appartenenza, di un futuro condiviso, manca. Le persone cadono nel vortice degli acquisti e delle spese superflue. Va a finire che abbiamo troppi mezzi per troppo pochi fini, cioè abbiamo dei fini scarsi, rachitici. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere, consumare. E l'ossessione per il consumismo, che evidentemente è sostenibile solo da pochi, provoca violenza. Acquistare, oltre che un atto economico, è sempre anche un atto morale. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi. I giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e anche uno spirito generoso, però sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo. Quando non si impara a fermarsi per ammirare ed apprezzare il bello, non è poi strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Comunque non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi. Per questo ci troviamo davanti a una sfida educativa. L'educazione ambientale ora tende, indico due cose. Primo, tende a includere una critica dei miti della modernità basati su individualismo, progresso indefinito, consumismo, mercato senza regole. Questi sono dei miti che devono essere criticati. L'educazione ambientale mira anche a recuperare i diversi livelli dell'equilibrio ecologico. C'è il livello interiore, cioè con se stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi e infine un livello di equilibrio ecologico con Dio. Il Papa dice di voler proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono proprio dalla nostra fede cristiana. Primo, la spiritualità non è disgiunta del proprio corpo, men che meno dalla natura. Alcuni cristiani dediti alla preghiera spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l'ambiente. Altri poi sono passivi e non decidono di cambiare le proprie abitudini. Questa è la prima linea su cui riflettere. Poi, il Papa dice che custodire l'opera di Dio non è opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana. Dobbiamo esaminare le nostre vite e riconoscere in che modo offendiamo la creazione di Dio con le nostre azioni. Una terza linea di spiritualità ecologica. La conversione ecologica è anche una conversione comunitaria e comporta la consapevolezza che ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un messaggio per noi. Poi questa conversione ecologica comporta la consapevolezza che Cristo ha assunto in sé questo mondo materiale e ora risorto. Lui è un messaggio per noi. Ancora, Dio ha creato il mondo con un ordine e un dinamismo che l'uomo non può ignorare. Ancora, esiste una sublime fratellanza dell'uomo con tutto il creato. E infine dice il Papa, meno è di più. Cosa vuol dire? C'è una capacità di godere con poco, c'è il bisogno di un ritorno alla semplicità. La natura è piena di parole d'amore. Recuperare la serena armonia con il creato per contemplare il creatore. Il Papa infine insiste sul ringraziare Dio prima e dopo i pasti. Dice, propongo ai credenti che riprendano questa abitudine che ci ricorda il nostro dipendere da Dio per la gratitudine per i doni della creazione. La solidarietà con i più bisognosi. Ringraziare Dio prima e dopo i pasti. Proviamo. Laudato sì, mi signore. Laudato sì, mi signore. Laudato sì, mi signore.